segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te cosa pensa signor bluck quando sente putin dichiarare che il suo obiettivo è denazificare l'ucraina sì ma non è se io credo che putin ormai non sa nemmeno quello che dice perché non sa dove sbattere la testa perché sta perdendo questo il problema ma non dipende soltanto da putin ci sono i collaborandisti generali anche se li elimina uno due o tre però non non è che soltanto lui l'unico l'unico massacratore colpevole e questo è grave il problema è che il popolo russo non sa quasi niente di quello che sta accadendo perché lui sta distruggendo anche il proprio popolo e i propri figli è una cosa tragica questo perché vedendo questi ragazzi di 18 anni che non sanno nemmeno cosa devono fare li manda la morte è una cosa pazzesca e quindi non io credo io una guerra così devo dire non ho mai visto a casa per casa è una barbaria non è una guerra questo è guerra naturalmente però io non ho mai visto una confusione così terribile senza distinzione certamente i stupri fanno parte quasi purtroppo di tutte le guerre ma questo è un massacro barbaro proprio non è non è non è perché anche le guerre in qualche misura hanno un minimo di regola un minimo di disciplina no queste sono come liberate belle in qualche maniera che aggrediscono chiunque anche passa per la strada a me sembra una cosa devo dire che non ho mai visto una cosa del genere a me viene in mente a me viene in mente